Oggi parliamo di memoria, di dolore e di futuro. Iniziamo! Amici recenziani, bentornati sul canale. Questa è il recenso, la videorubrica di libri, fumetti, manga film e telefilm. Scusate se biascico, sono molto vattato, ma sto con l'influenza. Ma questo non mi fermerà perché oggi parliamo di un libro, di una cosa accaduta veramente. Un libro che appunto ho voluto leggere per tanto tempo ma che guardavo nella libreria di casa e avevo sempre timore di iniziare a leggerlo, soprattutto per quello che ci avrei trovato dentro. Vi chiedo anche scusa se alcune cose le accenno solamente o non ne parlo o spero non avvenga ma nel caso in cui ne dovessi parlare male. Vi chiedo scusa perché purtroppo non fa parte di quello che è il mio bagaglio culturale, della mia preparazione scolastica perché appunto nella scuola dove ho studiato queste cose non ne abbiamo praticamente neanche toccate e quindi è una mia lacuna per cui spero che a passare, un po' come dice stesso anche l'autore di questo libro, sia non il mio pensiero ma attraverso un percorso di maieutica, siate voi stessi a farvi l'idea di quello che è accaduto e di tirarne le giuste conseguenze. Oggi quindi parliamo di Se questo è un uomo scritto da Primo Levi. L'edizione che ho io praticamente non l'ho neanche comprata io ma mia sorella perché le è servito per un lavoro scolastico. Lei ha fatto lo psicopedagogico a differenza mia per cui su queste cose decisamente ha avuto più contatti e più possibilità di studiare. Io ho fatto l'artistico e praticamente non ne so nulla di tutto questo. Questi sono strumenti utilissimi con i quali persone come me e chi magari agli studi non si è proprio avvicinato, strumenti con i quali conoscere quello che è successo ed evitare che accada di nuovo. Primo Levi è nato il 31 luglio del 1919 ed è stato prima un chimico poi un partigiano e poi uno scrittore italiano. È famoso soprattutto per essere stato probabilmente il primo ad aver scritto e ad aver raccontato quelli che sono stati gli orrori del lager di Auschwitz e quindi la sua esperienza da deportato, da deportato ebreo. Primo Levi si è diplomato nel 37 e si è iscritto al corso di chimica all'università di Torino proprio nel periodo nel quale Mussolini emanava le cosiddette leggi razziali. Leggi che possiamo dire senza ombra di dubbio erano diretta conseguenza delle idee assurde, violente e ignoranti tramandate, trapassate quindi dalla dittatura tedesca. Levi quindi si laureò nel 1941 e sulla sua laurea, una laurea avuta addirittura con lode, vi era scritto che era un ebreo e che quindi era un laureato ebreo. Nel 1942 trovò lavoro quindi in Svizzera e in quel periodo si avvicinò così ai moti partigiani e clandestinamente partecipò al partito d'azione. Fu proprio in quel periodo che trovò rifugio in Val d'Aosta e in Val d'Aosta venne arrestato e portato al campo di concentramento di Fossoli. Assieme ad altri 650 ebrei venne poi trasportato in treno fino ad Auschwitz. Anzi in uno dei campi satellite di Auschwitz parliamo quindi di Buna Monowitz, questo campo di concentramento affiancato a una fabbrica di gomma dove in pratica visse la sua prigionia, quella che lui racconta essere una lenta e costante disumanizzazione sua e dei suoi compagni schiavi, una disumanizzazione che terminava per la maggior parte di loro attraverso il camino oppure in una giustizia in mezzo alla piazza dell'Appello o per una morte di fame. Pochi sono quindi quelli che sono poi usciti vivi da quel campo e da altri campi. Se questo è un uomo in realtà inizia a essere scritto nel periodo proprio della prigionia di questo autore nel momento nel quale superato un esame di chimica Primo Levi ha per la prima volta tra le mani dopo tanto tempo un blocco note e un carboncino per poter scrivere ed è proprio quindi in quell'occasione in quella baracca di chimica dove lavorava che clandestinamente iniziò a scrivere e a raccontare quello che in pratica era la sua e la loro condizione di deportati schiavi nei lager. Io non vi nascondo che ho una seria difficoltà nel raccontare questo libro perché a differenza di tutti i libri di cui parlo normalmente, di tutti i fumetti di cui discuto con voi, qui non c'è nulla di inventato. Tutto quello che accade che qui è stato scritto è stato vissuto sulla pelle non solo di un solo uomo ma di milioni di persone. Un destino che è caduto tra capo e collo a migliaia milioni di persone che non erano altro che colpevoli di essere nati per quello che erano, di essere ebrei. Quello che quindi opera Primo Levi in questo libro è un racconto non tanto cronologico di quelli che sono i fatti ma più che altro analitico sviluppando e raccontando ogni aspetto di quella che è stata la prigionia, la vita nel lager, le notti nel lager e poi ovviamente la liberazione. Il racconto quindi si apre con l'arrivo nel campo di concentramento e con la prima divisione, una divisione tra uomini e donne e poi tra abili e inabili. Una divisione che già prefigura quello che è il destino di queste persone, ossia i lavori forzati da una parte e dall'altra direttamente il gas e il camino. Se quindi non si passava per il gas e per il camino dall'altro lato c'era questa condizione di schiavi, di essere e di vivere in schiavitù che quindi prefigurava un altro passo in basso in questa spirale di distruzione dell'umanità che prevede proprio una serie di regole e di regolamenti che bilanciavano per così dire l'equilibrio di un campo di concentramento ed era un modo strutturato dai tedeschi nazisti dell'epoca che serviva proprio a disumanizzare l'essere umano. Veniva questo prigioniero spogliato di tutti quei pochi possessi che si era portato nel momento in cui era stato rastrellato, arrestato o comunque raccolto dalla propria casa, dalla propria città natale e attraverso quindi un processo di spogliazione fisica ma anche psicologica l'essere umano diventava una semplice macchina che sostituiva quindi la manodopera che all'epoca mancava. Proprio perché la maggior parte dei tedeschi era arruolato. All'arrivo quindi con la spogliazione e questa prima doccia e rasatura obbligata e forzata a cui erano sottoposti tutti quindi uomini, donne e quei pochi anziani che erano stati scelti perché ancora abili al lavoro avveniva quindi il tatuaggio, quel numero sul braccio che molti ancora conservano e che mostrano di essere tornati a essere umani e di non aver lasciato la loro vita in quell'orrore che sono stati i campi di concentramento. Un numero che quindi serviva ai tedeschi a capire, a contare, a sapere la provenienza di ognuno di loro e soprattutto serviva in primo luogo, in maniera anche più sostanziosa, a distruggere l'identità della persona e a renderla praticamente inabile a qualunque pensiero di autocoscienza. Attraverso il racconto che quindi Primo Levi fa, già dai primi per così dire capitoli anche se non li differenzia come capitoli, abbiamo il primo accenno di un qualcosa che mi sa di strano in questo racconto. Se all'arrivo al campo di concentramento c'era la distinzione fra abili e inabili, man mano che Primo Levi vive gli orrori del campo, scopriamo assieme a lui che non tutti vengono portati alla morte se inabili. C'è quell'inabilità transitoria che può essere un'infermità momentanea, una malattia che non veniva considerata quindi inabilità completa e definitiva e per cui questi schiavi, questi deportati venivano rinchiusi all'interno dell'infermeria del Cabe, che era un capannone come tanti altri presenti nel campo, ma messo a parte, nel quale appunto venivano sottoposti a una serie di cure, cure ovviamente raffazzonate, giusto e tanto per, ma che davano però, come abbiamo letto proprio in questo racconto, la possibilità allo schiavo deportato, all'essere umano che veniva portato lì dentro, di rinfrancarsi un minimo, di ritrovare un po' con le energie, di avere la possibilità di stare al caldo in quell'inverno terribile che era l'inverno polacco e soprattutto erano sollevati da quello che era il lavoro fisico e quindi il motivo per il quale si deperivano tanto facilmente, soprattutto perché quello che mangiavano non poteva essere realmente definito cibo. Ed è quello che in pratica accade proprio a Primo Levi. Primo Levi ha un incidente, viene ricoverato nel Cabe, lì vi passa quasi un mese, si ristoria, ora si ristabilisce e poi viene rigettato all'interno del campo, ritornando a essere quella rotella in questo meccanismo di disumanizzazione, di perdita di sé, che è appunto il campo di concentramento nel quale vengono resi schiavi non solo fisicamente ma anche schiavi nelle coscienze. I tedeschi fascisti dell'epoca avevano pensato praticamente a tutto, non solo a disumanizzare l'uomo e la donna ma ovviamente a tenere occupato il loro tempo, un tempo che era scandito in maniera precisissima, praticamente distruggendo appunto la volontà e la forza di ognuno di loro. Con la levataccia mattutina iniziava già subito il lavoro, un lavoro fisico estremante, che non pensava e non teneva conto delle temperature, siano essi estive o invernali. A questo ritmo di lavoro si aggiungeva la fatica stessa del lavoro, un lavoro che quindi era molto fisico perché appunto, soprattutto per come viene raccontato qui dal lato dell'uomo, perché Primo Levi lavorava in quanto uomo nella Buna, questa fabbrica di gomma, era un lavoro fisico estenuante, accompagnato ovviamente da percosse fisiche, violenze che venivano perpetrate perché non solo dovevano essere schiavizzati e sfruttati come mano d'opera che in quel momento era praticamente assente, altrimenti erano picchiati e distrutti fisicamente logorati se non tenevano bene in cura le proprie uniformi, quella appunto camicia, pigiama, a righe, le loro scarpe che altro non erano che suole di legno, dolorosissime, che piagavano i piedi e ovviamente se non mantenevano un ritmo nel camminare, un ritmo nel lavorare, dovevano in pratica continuare a mostrare quella sottospecie di dignità che i tedeschi volevano che mantenessero per tenerli in vita. Una dignità che in realtà non era per niente dignitosa, una dignità che non ha fatto altro che appunto scarnificare l'essere umano e farlo cadere sempre più in questo circolo di autodistruzione progettato dai tedeschi. Nel processo di disumanizzazione di questo halfling, cioè di questo schiavo, concorrevano altri e tanti fattori come può essere ovviamente l'alimentazione, un'alimentazione irrisoria, piccoli pezzi di pane o litri se non piccole porzioni di zuppa serale che rinfrancava lo schiavo che ovviamente aveva così in corpo un minimo di calore ma che ovviamente non soddisfaceva per niente il fabbisogno di chi era costretto a quella vita. E soprattutto a peggiorare questa situazione c'era il trattamento che a questi deportati riservavano poi capò delle varie baracche. Persone talmente disumanizzate che però avevano avuto la bravura e la furbizia di mettersi dall'altro lato e di continuare a perpetrare questa catena di violenze e di abusi a danno dei quelli sotto di loro perché così erano loro stessi sollevati da fatiche, dolori e abusi. Una catena quindi che come vediamo non fa altro che a far abbandonare l'umanità stessa, la dignità stessa dell'uomo e fa rivestire queste persone di un senso di bestialità che ovviamente ai tedeschi faceva solo piacere. Luce, speranza, vita futura quindi erano concetti che pian piano si allontanavano sempre di più da quello che era il deportato che appena arrivava nel campo veniva a contatto con questa realtà. Se quindi nei primi giorni, settimane e mesi c'era ancora una forza e un sentore di speranza, a mano a mano che il tempo passava e che quindi le violenze, i ritmi e i dolori iniziavano a piegare e piegare queste corpi e queste coscienze, man mano tutto questo non faceva altro che concorrere alla vita effettiva che c'era nel campo di concentramento. Levi quindi ci mostra la differenza che c'era tra i sommersi e salvati all'interno del fango della neve di questo lager e in questo modo ci spiega anche come sia stato possibile che milioni di persone lì rinchiuse non abbiano avuto la forza e la volontà, la capacità di rivoltarsi a questo sistema di violenta schiavitù. È una cosa con la quale mi sono ritrovato a pensare, a riflettere per tutta la lettura di questo libro come sia stato possibile che tante persone non abbiano avuto la capacità di riunirsi, di organizzarsi e di rovesciare lo status quo di questi lager. Però la risposta, anche se non è immediata, è molto evidente e ci viene raccontata stesso dall'autore soprattutto anche nell'appendice che è una raccolta di domande che gli venivano fatti dagli studenti e che quindi ha deciso nelle ultime edizioni di questo libro di raccogliere in modo da compensare quello che era il racconto stesso dei fatti che ha vissuto. Era praticamente impossibile per lo schiavo che viveva ormai da tempo nel campo pensare solamente a rivoltarsi o avere un pensiero di rivolta contro i capo, contro le SS, semplicemente perché con la costante paura di questa separazione già avvenuta con i propri familiari e con gli amici, con la spogliazione, la perdita dei propri averi, la perdita della propria dignità, la perdita della propria identità, sia praticamente impossibile per lo schiavo pensare ad altro che non sia la sopravvivenza, che non sia il mangiare, il nutrirsi e ovviamente costretti in questo ritmo assurdo di lavoro era praticamente impossibile pensare ad altro se non appunto a quello che c'era da fare, che si doveva fare perché altrimenti sarebbero passati attraverso il camino e tanti saluti. Anche semplicemente il suicidio come ci raccontano tanti altri testimoni e possiamo vederne le interviste su youtube quindi non vi sto dicendo cose inventate. Molte persone che pensavano perché non vi siete suicidati in realtà i suicidi ce n'erano ben pochi perché la voglia di vivere, la speranza di vivere non ha mai abbandonato definitivamente i deportati. Tutto ciò che quindi legava queste persone incarcerate e schiavizzate era semplicemente talmente tanto sopito che in alcuni di loro spariva anche la voglia di vivere e diventava tutto un automatismo che li costringeva ad andare avanti fino in praticamente a sbattere a terra morti. È difficile compenetrarsi e entrare in questo stato d'animo, in questo modo di vivere che non è un vivere vero. È una vita non vita ma se facciamo questo sforzo in più, se ci diamo questa possibilità in più di capire cosa Primo Levi ci sta raccontando abbiamo anche la possibilità di capire effettivamente cosa ci sta raccontando e quindi come sia stato praticamente impossibile che ci siano state rivolte. Le rivolte ci sono state più in là quando ormai i russi si avvicinavano sempre di più a questi satelliti di Auschwitz come ad esempio Birkenau e tanti altri ma ovviamente fino a quel momento ogni giorno era sempre lo stesso, ogni attimo era sempre lo stesso, ogni respiro era sempre lo stesso. Come sempre le stesse erano le notti che vivevano e si succedevano l'una dopo l'altra nei lager, notti nelle quali Primo Levi ci dà un piccolo assaggio di persone che erano costrette a stare in due, in tre, nello stesso per così dire letto, letti a castello che riempivano queste baracche in maniera disumana, neanche fossero veramente capi di bestiame. Notti che vedevano quindi ammassi di corpi ormai scheletriti addossati l'uno all'altro, costretti a dormire quando era possibile dormire se non si accompagnava questo sonno a sogni di cibo e quindi si vede la gente che masticava durante la notte, che pensava, sognava per quello che era possibile sognare di star mangiando qualcosa, di riempire almeno nel sonno lo stomaco. Notti nelle quali se il proprio compagno aveva problemi di dissenteria o di vesciche che si riempivano continuamente di questa mistura di acqua sporca che era la zuppa, erano costretti a dover scendere di continuo dal letto per poter vuotare l'intestino e i visceri. Per cui anche la notte lo schiavo in realtà non aveva un vero e proprio riposo, non aveva la possibilità di staccare come diciamo noi oggi il cervello dalle responsabilità e dal lavoro. Tutto questo sistema non fa altro che quindi distruggere la volontà di chi viveva all'interno dei lager. Persino l'esame di chimica che Primo Levi ha dovuto affrontare in vista della creazione di una baracca per un laboratorio di chimica sembrava una piccola speranza che si era accesa per alcuni di loro e che quindi aspettavano e attendevano la chiamata a questo nuovo lavoro, un lavoro che così li ha salvati dalla fatica fisica in alcuni momenti. Ma possiamo dire che Primo Levi ha avuto, tra virgolette e non scambiate quello che sto dicendo per una leggerezza incomprensibile, ma ha avuto la fortuna di essere quindi chiamato come chimico e quindi di smettere di lavorare con lo sforzo fisico per rientrare all'interno di una baracca la più pulita, quella che più si avvicinava al mondo esterno, pulito, dignitoso, umano anziché quello sporco, annientante che era quindi il lager. Vivere nel laboratorio significava vivere all'interno, al chiuso, al sicuro, al caldo. Avevano anche diritto a una rasatura settimanale, alla possibilità di entrare in contatto anche con materiali e materie che piano piano venivano poi rubate e usate come merci di scambio. Perché Levi ci racconta anche questo, che se in questo campo, in questi campi, il concetto di civiltà veniva distrutto e con lui anche la libertà e la consapevolezza degli schiavi, l'unica cosa che rimaneva era un senso di baratto che non serviva altro che a portare un po' più avanti l'orizzonte di ogni schiavo, perché attraverso il baratto si poteva avere un po' di pane in più, quel litro di zuppa schifosa in più, un vestito fatto meglio, non più lacero, distrutto, ma anzi magari rattoppato, più caldo, più confortevole, un paio di scarpe che non siano di legno ma magari di cuoio e quindi più facili da indossare e da tenere al piede. Un tipo di commercio che quindi, anche se disapprovato dalle regole del campo, era ben noto ed era ormai ben insediato all'interno dei campi di concentramento. Un mercato nero che quindi riusciva ad entrare in contatto anche con l'esterno, perché non dimentichiamoci che in questi campi di lavoro, in queste fabbriche, non lavoravano solo gli schiavi, ma anche quel minimo di mano d'opera che in quelle fabbriche era rimasta, di uomini tra virgolette liberi e quindi il contatto con la realtà esterna avveniva proprio in quei campi, proprio in quelle fabbriche e in quel momento il mercato si riempiva anche di tabacco e di altri materiali che erano particolarmente appetibili nel mercato del campo e quindi ovviamente davano una possibilità in più allo schiavo, al deportato, di avere potere all'interno di questa macchina di morte. Sfogliando, se questo è un uomo, si ha l'impressione di una discesa nel baratro, lenta e costante, un baratro sempre più buio, sempre più disumanizzante, una capacità strutturata a tavolino e realizzata nel concreto da parte dei nazisti che non serviva altro che ghermire la volontà e la coscienza degli schiavi e farla propria. Eppure tramite il contatto e la relazione con alcuni compagni, Primo Levi si rende conto che tutta quella serie di regole in realtà non venivano seguite solamente perché erano regole imposte da chi usava poi violenza per imporle e per farle rispettare, ma potevano servire a mantenere quella condizione di dignità e di amor proprio per ognuno di loro. Ad esempio Levi aveva un compagno il quale gli ha spiegato che quella doccia, finta doccia, quella rasatura che gli veniva fatta di volta in volta era un prendere cura di se stesso, non un seguire un regolamento imposto dall'alto. Era un volersi e continuarsi a voler bene, una piccola coccola possiamo dire così, che continuava ad avvinghiare la propria vita e permetteva che la propria vita si avvinghiasse alla realtà esterna al campo e non un cadere in quel fango, in quella lordura. Una disumanizzazione fortemente voluta dai tedeschi che però proprio nel campo vede rompere, spezzare le catene, spezzare questa discesa nel momento proprio nel quale i russi arrivano vicino nei pressi di questi campi e cacciano i tedeschi. Ed è nella fuga dei tedeschi quindi che, come si dice, quando il gatto non c'è il topoballa, finalmente i deportati hanno avuto la possibilità e il coraggio di uscire da questo buio, da questo baratro e riprendere coscienza di sé, riprendere quindi in mano la propria vita. Ed è così quindi che Levi, che era stato messo da parte nel cabe perché con la scarlattina o la rosolia, in questo momento non ricordo, ma comunque era malato come tanti altri in quel momento, non è stato costretto a dover subire e intraprendere come tanti altri invece quella che poi è stata definita la marcia della morte, che è la transumanza di tutti questi schiavi ebrei per allontanarsi dai campi di concentramento man mano che quindi i russi invece ne entravano in possesso. In quel periodo quindi vediamo che come gli ebrei avevano dovuto costruire gli stessi macchinari di morte con i quali venivano poi giustiziati, hanno poi dovuto smontarli. Sono state fatte distruggere tutte le prove che incriminavano i tedeschi su quello che era accaduto in quei campi, fino quindi a questa marcia della morte che ha continuato questo ciclo di dolore e di sofferenza e di schiavitù, di annientamento, ma Primo Levi non ha dovuto subire questo perché appunto era malato ed è stato lasciato indietro nel campo assieme a tanti altri ed è proprio in quel momento che raccogliendo una stufa, cercando nei capanni delle mense qualcosa da mangiare, qualche risorsa, che i primi collegamenti tra un uomo e l'altro si sono ravvivati, ripristinati e in quel campo nel quale dignità umana e altruismo erano stati distrutti e annientati, almeno così i tedeschi pensavano e speravano, proprio in quel campo invece tutto questo è stato distrutto da una mano tesa, dal modo con il quale si sono aiutati tra loro. Anche se è malato, anche se distrutto fisicamente e provato dalla malattia, Primo Levi e molti altri con lui hanno cercato di aiutarsi tra di loro, hanno teso quella mano che praticamente era stata sempre bacchettata, violata, deturpata dalla violenza nazista. Di sicuro ci sarebbe tanto e molto altro da dire, non solo su se questo è un uomo, ma sul periodo storico, su quello che è stata la sofferenza di tanti esseri umani colpevoli solo di essere nati ebrei o appartenenti ad altre fazioni, etnie, come le volete chiamare voi, perché non c'erano solo ebrei, c'erano testimoni di Geova, c'erano omosessuali, c'erano nemici politici e quant'altro, c'erano i Rom, i Sinti, insomma tutta una categoria di persone definite nemiche e indegne di avvicinarsi alla razza ariana tedesca e che quindi dovevano essere assolutamente annientate, mos tu a vita mea. C'è tanto da dire, ci sarebbe ancora tanto da raccontare. Per fortuna non sono chiamato io da solo a fare una cosa del genere, non mi sento e non mi sentirei neanche all'altezza di poterlo fare, proprio perché questo barato enorme che è stato aperto nei campi di concentramento, questo inferno creato sulla terra è talmente oscuro, talmente tenebroso che un solo essere umano non sarebbe capace di raccontarlo, perché non torni a essere e a rinascere sulla terra, anche se vediamo che il meccanismo tenta sempre di ripetersi e di ripresentarsi. Proprio perché non mi sento all'altezza, proprio perché so che mi manca tanto di questo periodo, so che ho tanto da imparare, io ho il forte desiderio da anni ormai di andare ad Auschwitz, a Birkenau a vedere quello che è successo, a vedere i posti dove tutto è successo, anche se magari non ne ho la possibilità economica, magari me lo sapete dire voi, com'è possibile fare una cosa simile. Quello che vorrei fare io è avere la possibilità di andarci con uno dei testimoni italiani che ancora sono vivi, penso ad esempio alla nostra grandissima senatrice a vita Liliana Segre, penso tantissimo a Samimodiano, andare con loro in treno così come sono andati loro la prima volta, arrivare nel pieno dell'inverno, vivere sulla pelle quello che hanno dovuto, non per scelta vivere loro. Penso che spegnendo i telefoni, chiudendo le videocamere e vivendo veramente sulla propria pelle un minimo di quello che hanno vissuto loro, possa aiutare a noi che siamo storicamente lontani da quello che è successo, possa aiutarci a comprenderlo ancora meglio e ovviamente a comprenderlo soprattutto attraverso anche quello che è l'eredità lasciata da tanti di loro, come ad esempio appunto Primo Levi, che per fortuna ha avuto la necessità impellente di dover mettere su carta quello che ha vissuto e tutti i demoni e i terrori che ancora aveva nel cervello e nel cuore. Penso che sia solo così che dopo i testimoni oculari di quello che è successo realmente possiamo poi esserlo anche noi, testimoni e trascinare e tramandare quella sofferenza ai nostri figli e ai figli dei nostri figli perché non avvenga mai più, perché non ci sia mai più un uomo che addita l'altro come diverso e proprio perché diverso debba volere il suo male e la sua morte per autodefinirsi e autodeterminarsi. Io spero quindi vivamente che non ci sia più una seconda Auschwitz, non ci sia più bisogno di una nuova Birkenau, di una nuova Duna e tanto altro, di altra sofferenza su questo mondo. Che ci siano persone che prendano coscienza di quello che è successo e che dicano no, basta. Perché ovviamente non può farlo solo la senatrice Segre, non può farlo solo il raccontare degli ultimi testimoni che abbiamo. Loro sono quel collegamento che abbiamo con quella realtà assurda, deplorevole, meschina, turpe. Tutto il resto ora spetta farlo a noi. E quindi ne approfitto visto che questo video è stato pensato per l'anniversario della liberazione. Voglio ringraziare il lavoro dei testimoni, il loro sforzo, la loro capabilità nel voler raccontare ai più giovani. Io mi rendo conto che sono fuori dal periodo scolastico e quindi fuori da queste dinamiche. Ma spero vivamente che uno di voi che sappia come intraprendere questo viaggio e di vivere quello che è successo, dove è successo, vedere quello che Samimodiano continua a ripetere, i suoi occhi non dimenticheranno mai. Io mi emoziono sempre tanto quando inizio a pensare a queste cose e quindi penso sia giunto anche il momento di fermarmi, di ringraziarvi, di aver trascorso questi minuti con me che non sono nessuno ma spero vivamente che chiuso questo video andiate a cercarvi tutti gli altri, tutti quei video nei quali persone decisamente più preparate di me come la Segre, come Modiano, come Venezia, come tanti altri che non sto qui a nominare perché di sicuro me ne dimenticherò qualcuno ma spero di lasciarvi i nomi nell'info box qui sotto, hanno raccontato decisamente meglio di me. A partire proprio da Primo Levi che oltre a una serie di libri che è bene che ognuno di noi leggiamo ha lasciato dietro di sé anche tantissime interviste. Quindi se non volete leggere almeno ascoltate e non ascoltate senza guardarli in faccia, dovete guardarli in faccia perché nei loro occhi, nei loro sguardi ritrovate quel terrore e quel terrore che in quello sguardo vi dice che non deve più tornare. Io quindi vi ringrazio, vi ho fatto il pippone quindi mi scuso e noi ci vediamo la prossima volta sempre qui, sempre sul recenso pronti a sfogliare nuove storie e volare nel mondo della fantasia. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per un pezzo di pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.